Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petro Cronel Tanke e questo è un video che faccio dopo tantissimo tempo! Allora sono tornato, ma non per questo canale, nel senso vi spiego. Ho un nuovo progetto in mente come avrete visto dal titolo. Questo canale rimarrà, non verrà cancellato, ma rimarrà come secondo canale dove porterò qualche video sporadico riguardante sempre il gaming, magari su Minecraft, su Code, su FIFA, eccetera. Ma mi sposterò sull'altro canale che adesso vi metto in descrizione, vi metto qua sopra, vi metto i più posti possibili dove parlerò, dove tratterò di calcio. Perché ragazzi miei, mi sono reso conto che io adoro giocare, adoro il gaming, come avete visto nell'anno che abbiamo passato assieme ma c'è un problema di fondo. A me piace tantissimo giocare, non ho abbastanza tempo per giocare, quanto ci vorrebbe per portare delle serie fatte bene e spesso mi stufo dei giochi, come è successo di Minecraft. L'unica cosa che nella mia vita non mi ha mai stufato è il calcio e mi permette anche su YouTube di portare video più flash, più veloci come può essere magari una nuova trattativa bellissima che mi interessa la porto facendo un video anche a modi selfie facendo in modo di poterlo caricare subito senza doverci impiegare tempo e tempo di editing perché vi dico che io ci mettevo le ore, le ore a editare perciò ragazzi vi chiedo di passare dal mio canale nuovo, Petro e iscrivervi, vedere se vi interessa quello che porto e farmi sapere qualche cosa che vorreste vedere su quel tipo di canale lì questo è quello che vi chiedo perché so che comunque tra di voi c'è qualche affezionato e so che tra di voi c'è qualcuno a cui interessa il calcio perciò mi raccomando passate e datemi del supporto perché iniziare un nuovo canale come ben sapete non è mai facile avrei potuto trasformare questo canale, ma ho preferito tenerlo come secondo e iniziare un'avventura tutta da capo cercando di migliorare, di crescere e di portare contenuti di qualità e in questo dovete aiutarmi, dandomi consigli, commentandomi, facendo discussione perché il calcio non è una sola persona che parla il calcio sono persone che si coinvolgono in un dialogo assieme quindi ragazzi vi volevo fare questo annuncio vi ringrazio se lo state vedendo e vi aspetto sull'altro canale un saluto a tutti e ciao ciao belli ciao ciao